In questo momento mi hanno detto in alto a sinistra, può essere, ci dovrebbero essere dei bottoni per fare delle domande. Se volete fare delle domande ai relatori è il momento di farle. Vedete il vostro bottone Q e A? Lì potete farci delle domande. Stavolta sono aperti, quindi potete anche farci delle domande. Se ci volete fare delle domande, volentieri rispondiamo. Nicola, se posso, vorrei scoprire l'occasione per salutare Gianluca Pierpaolo e Alessandro Santoro, che ho visto essere in collegamento con noi ad ascoltarci. Quindi volevo fargli i miei saluti e augurargli un buon Natale. Ah sì? No, Alessandro no però. No, Alessandro sì, assolutamente. Vabbè Alessandro no. Ok. Allora non funzionano, non avete domande o non funzionano le domande? Sono molto curioso di questa cosa, perché vedo 30 persone online in questo momento, 29 e nessuna domanda. Allora guardate, non so se tecnicamente abbiamo dei problemi, dovrebbe essere a posto, ma arrivano a qualcosa. Mi arriva Giovanni che mi chiede se funziona. A occhio dovrebbe funzionare. Però nel frattempo, mentre aspetto la tecnologia, volevo fare qualche domanda e nello stesso tempo volevo anche chiudere il filmato di Amazon Go. La tecnologia applicata al punto vendita, abbiamo visto che per Amazon Go è interessante. Marco, hai voglia soltanto di introdurre l'altra parte del filmato che faccio vedere? Sì, come ci piaceva far vedere, da una parte Amazon Go, che come hai detto è un progetto molto avveniristico, ma era interessante vedere proprio la tecnologia nelle tasche del cittadino. Cioè in realtà non hai più le code, non tiri più fuori i soldi, vai tutto in virtuale, in realtà ti basta prendere un prodotto dallo scaffale e come lo levi dallo scaffale, l'automatico viene caricato sul tuo telefono. Nello stesso modo esistono oggi dei sistemi che sfruttano la tecnologia che ci possono essere di grande aiuto per migliorare quella che è l'aderenza terapeutica, quindi la compliance del paziente. Stiamo lavorando molto in questi anni per fare sì che il farmacista sia più preparato e sia più capace di seguire il paziente a casa, il cronico. Questo perché ovviamente ha minori costi per il sistema sanitario nazionale, ma valorizza la professionalità e il lavoro per il quale questo operatore sanitario riesce a esprimere il meglio di sé. Ritengo, non voglio fare politica che il futuro sia quello e non sia invece l'altro, come è stato ipotizzato qualche tempo fa, magari di pagare i bollettini postali in farmacia. Ritengo che da un uomo marketing, con una strategia di posizionamento, la scelta ideale sia quella di essere un punto di salute e benessere. Per questo la tecnologia può essere molto d'aiuto. Quindi nel filmato c'è un progetto, che è un progetto pugliese, al quale non sono legato né personalmente né come azienda, ma che ho preso in considerazione perché è stato premiato dalla Presidenza italiana, dal Presidente della Repubblica, come la migliore start-up a livello nazionale, dove fanno vedere come la tecnologia, le app, che possono essere utili per il paziente, per avere una maggior compliance alla terapia, quindi una migliore aderenza e ci sono tutta una serie di passaggi. Quindi se lo mandi poi ci spendiamo due parole sopra. Ok, faccio vedere il filmato. Vi anticipo che ho tre domande che sono arrivate, quindi ve lo anticipo. Alcune sono anche per i relatori. Faccio vedere il filmato, la parte residuale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Senti, secondo me il progetto è veramente interessante perché in questo caso con questo strumento che ormai è diventato un elemento dal quale non ci distacchiamo più durante le ore del giorno, né durante gli webinar dei Pharmacy Hub, né quando andiamo nel posto più intimo del mondo, hanno sostituito le riviste che facevano compagnia. In realtà abbiamo sempre questo soggetto che è diventato un appendice attaccato a noi, sull'iPhone o sullo smartphone è possibile avere l'armadietto farmaceutico. Quindi, diciamo, il nativo digitale del domani potrà andare in farmacia e avere lo strumento sul quale sa quali sono i farmaci che ha all'interno del suo armadietto. Se non se lo ricorda può guardare lì sopra per vedere se ha un prodotto e quindi se lo deve comprare. Ha la possibilità di essere avvertito tramite un'app, un recall, se deve prendere il farmaco. Se non prende quel farmaco il sistema avverte il medico di base o il farmacista che può intervenire e ricordargli che deve prendere, e quindi aumentare l'aderenza alla terapia. Ti avverte se i farmaci sono scaduti o stanno scadendo, in modo che tu li possa sostituire. Questo è un grandissimo sistema d'aiuto. Lo dico in questo momento, ho in famiglia un genitore che ha problemi di demenza senile, e quindi mi rendo conto che purtroppo è un fenomeno molto diffuso. c'è la necessità tutti i giorni di avere dei sistemi che ci aiutino a mantenere alta l'attenzione e a vigilare. Questo è sicuramente un sistema che non tanto il singolo, come può essere questo, fatto da un altro. Ce ne possono essere, ce ne sono di queste forme fatte dalle aziende, fatte da privati. Credo che è un qualcosa di integrato fra le farmacie, quindi il sistema farmacia, Federfarma, Fofi, insieme con i medici e quindi aggregando tutte le entità che si devono occupare di salute, sia una cosa molto importante. Ovviamente, pure il suo mercato, chiunque se la può comprare la potrebbe fare da solo. Secondo me, il grande valore aggiunto è quello di fare sviluppo, innovare, e poi attraverso questi strumenti si può fare anche qualcosa di commerciale, perché una volta che sei nel telefono del paziente, ovviamente non per il farmaco, ma per altro lo puoi aiutare a comprare prodotti che lo aiutino a vivere meglio. Puoi fare informative quando hai la delibera della privacy, c'è tante cose, però il futuro sta veramente in questo. E ritengo che sia impossibile farlo da soli, cioè per avere un ottimo risultato è necessario lavorare in gruppo, quindi fare il sistema. Io ho quattro domande, cerco di dirottarle sui partecipanti, partirei dalla prima, che riguarda la consegna a domicilio. Amazon faceva recapito a domicilio, ora si butta nella distribuzione al dettaglio. La farmacia dovrebbe fare recapito a domicilio o fa bene a rimanere dov'è? Io lo chiedo a Ignazio Consiglio, così ci dice il suo punto di vista. Ma sai Nicola, dal mio punto di vista la farmacia deve stare molto attenta a muovere questa leva della consegna a domicilio. In realtà in farmacia noi ogni giorno cerchiamo di costruire tutta una serie di attività fidelizzanti per il cliente, di costruire uno scaffale che dovrebbe essere, come tu hai detto, parlante, quindi tutta una serie di operazioni, di allestire un bel negozio, eccetera. Quindi io non credo che la farmacia abbia grande convenienza nel trasformare il proprio cliente in un cliente domiciliare. Certamente cosa diversa è erogare una tipologia di servizio a una platella di clienti che possono avere delle problematiche particolari legate alla mobilità o altro. Secondo me questo è caratterizzante del posizionamento anche del punto vendita, ma al momento attuale io non mi muoverei da questo. Ok, grazie Ignazio. Allora io qua ho una domanda che non c'è scritto a chi è rivolta, però mi dicono, ma da una rete come CEF, sta pensando di ispirarsi a un modello sviluppato in America? La domanda non so a chi rivolgerla. Non so, fai tu. Senti, io ritengo che indipendentemente dall'essere CEF ci si deve ispirare con un principio di benchmarking a coloro che fanno le cose fatte bene. Quindi assolutamente sì, questi modelli che sono modelli vincenti, che come dicevi tu prima prendono a cura come passo fondamentale il cliente, quindi la sua soddisfazione, portare all'interno dei nostri sistemi quelle attività. Voi avete visto un call center dedicato. Ad oggi in Italia è impensabile. Perché non pensarci anche noi a avere un call center che possa svolgere quel tipo di funzione? Molte delle cose che si vedevano lì dentro, di carattere innovativo, possono essere fatti solo se si lavora in rete. È impossibile pensare che il singolo possa avere il cicalino collegato con il call center, che abbia i soldi da investire per un tavolo intelligente, per il cestello intelligente, per la lente intelligente. Ci sono investimenti che il singolo non può fare. Quindi all'interno della rete assolutamente sì. Quindi guardiamo con grande attenzione quello che viene fatto fuori e ovviamente cercheremo di portarlo, di innovarlo e di migliorarlo anche all'interno delle nostre farmacie. Perfetto. Grazie Marco. Abbiamo ancora due. Allora, in realtà sono due riguardanti... Mi faccio la domanda e mi dio la risposta. In realtà mi chiedevano una precisazione sulla capacità di essere incompresi. Io poi crederò una mano a Giovanni Borroni su questa cosa. Cosa vuol dire? Io prima appunto dicevo Amazon ha detto è molto importante essere in grado di avere la capacità di sentirsi incompresi, cioè di andare oltre rispetto a quello che è il sentito generale. Io la cosa che voglio dire, lasciando poi la parola a Giovanni, è questa. In questo momento gli italiani si sentono incompresi. Politicamente parlando, credo che sia forse quegli anni dove più in assoluto l'opinione pubblica si sente non capita da chi ci rappresenta e di conseguenza questa non comprensione non crea consenso, non crea neanche le condizioni per riuscire a costruire qualcosa di buono. È difficile in questo momento costruire perché c'è molta incomprensione, non ci sentiamo capiti. Ora, io spero che i farmacisti siano coraggiosi di fare scelte oltre la popolarità di breve. Ma se il bene tutelato si chiama salute, se si chiama professionalità, non da etichetta ma si va a fare qualcosa, i farmacisti dopo saranno molto compresi, sempre di più. Quindi non cercare la popolarità, ma cercare il reale valore aggiunto per il cittadino. Questo secondo me è un rispetto importante. Giovanni, tu che sei un innovatore, che dici a riguardo? No, sono assolutamente d'accordo. Ho tentato prima di far comprendere come la farmacia è un'azienda. Non deve aspettare che siano le aziende a fare il bene della propria azienda. Perché ho la sensazione che molto spesso i farmacisti si attendono perché l'azienda faccia le attività e dietro a queste la farmacia segue. Quindi il famoso discorso del dispensatore. Se tu parli con molte persone, c'è il rischio di capire che questo ruolo non ha avuto uno sviluppo come la gente pensa. Cioè quello di essere un punto di riferimento nel mondo della salute nella quale io mi ritaglio la mia azienda a modello per i miei pazienti che verranno. Ma pare che sia, come dire, un punto dove vado ad acquistare un prodotto perché qualche d'uno me l'ha detto. Lascio perdere il farmaco, ovviamente. Però come voi avete visto in questi anni, il farmaco, e come tu hai sottolineato, il fatto che ci sia sempre meno gente che magari entri, è proprio perché è cambiato il mondo. E' cambiato anche il modello di salute. Oggi noi parliamo spesso negli incontri che facciamo anche con l'industria come appunto mentre prima una buona fetta di fatturato veniva fatta e era certa, diciamo, oggi non lo è più. Quindi la necessità di essere compresi è la necessità di incominciare a fare delle cose nuove e crearsi dell'azienda a propria misura in base al bacino che tu hai. Quindi, scusate, offrire servizi, fare marketing, quindi, conoscendo i propri clienti. E quindi, come dire, questo è il modo per essere compresi e non essere fuori dal coro, ma essere innovativi. Perché in fondo la gente si aspetta da un farmacista che tratta di salute. Perché trattasi di salute. E quindi anche sotto questo aspetto non si può demandare ad altri quello che bisogna fare per la propria azienda. Perché, ribadisco, il presupposto oggi, più che mai, la farmacia deve diventare azienda. Poi, che sia singola, di gruppo, questo staremo a vedere. E' chiaro che, come dire, quello che diceva prima Marco, basta andare in giro per il mondo e vedere quello che succede. Noi italiani, mediamente, siamo indietro 12 anni dai paesi anglosassoni. Ci stiamo arrivando, insomma, dal 2007 al 2016 ci stiamo arrivando. Cioè, purtroppo il mondo va in quella direzione. Poi, uno può dire, sì, Amazon prima faceva questo, adesso fa quello. Ma, come dire, Amazon tra un po' potrà mettersi anche a fare i farmaci se decide che nel suo modello di business i suoi interlocutori possono essere interessati a questo mondo. Come fa Coop? Adesso, non per... Cioè, o come ha fatto? o come ha tentato di fare? Cioè, bisogna stare attenti a questi cambiamenti che sono in atto. Avere un ruolo, e c'è quello del farmacista in Italia, per fortuna, ancora un ruolo importante, è un punto sanitario importante. Però attenzione a non rimanere attaccati a quei discorsi. C'è il sindaco, c'è il farmacista, poi c'è... Cioè, il mondo sta cambiando. Sta cambiando veramente... C'è il blogger. C'è anche il blogger ormai. Bravo. Ultima domanda. Back to basics. Puoi raccontarci una case history su esposizione e consiglio? Questa è la domanda. La mia risposta è che qui, in questo momento, sull'esposizione faccio fatica, perché con le manine faccio un po' fatica. In realtà, racconto un'iniziativa, adesso, subito dopo, faccio i saluti e farò anche un po' di chiacchiere come avatar, quindi dopo sono a disposizione per chiacchierare. Però in realtà, a gennaio, faremo un'iniziativa su questo. Chiederemo a chi vorrà di mandarci delle foto dei suoi scaffali e, in un momento di incontro, in un laboratorio, mostreremo le foto dei scaffali delle farmacie che ce le manderanno e le nostre critiche costruttive. Quindi ci saranno dei momenti di contro durante la settimana, non durante i nostri eventi di oggi, ma durante la settimana, per riuscire a migliorare questi benedetti scaffali delle farmacie. Quindi, lavoreremo su questo. Sul consiglio, stay tuned in modo tale che riusciremo a fare qualcosa. Veramente due slide, due, in modo tale da raccontarvi cosa succederà prossimamente. Non vi rifaccio vedere tutto, siamo veramente alla fine. Vi stavo appunto, vi facevo vedere, allora qua abbiamo ancora le domande. Vi aspettiamo per il prossimo volo. Il prossimo volto a gennaio, la data non è ancora stabilita, ma sarà sempre verso il fine mese. Parleremo della gestione degli acquisti in farmacia e avremo diversi ospici che daranno consigli pratici su come fare gli acquisti. E questa cosa, mi dicono, che sia interessante i farmacisti. sempre in live webinar. Adesso vi salutiamo tutti quanti dal video, ma adesso andiamo in auditorio per farci gli auguri via Avatar. Io sono più slanciato e ho 20 cm di altezza in più, voglio farlo con il mio Avatar, gli auguri. Quindi, a dopo. Giovanni, Ignazio, Marco. Ciao a tutti, grazie. Ciao auguri, grazie. Ciao auguri, buona parte. Andiamo a scambiarci i biglietti da Avatar, a dopo. Anch'io sono dentro in auditorio come Avatar. Perfetto.